Perfetto, potrebbe ancora... Terra e veleno. Bene. Ha il fuoco o no, però? Il fuoco è meno 50. Bene. Anche tu ha il fuoco meno 50? Meno 20. Già, che livello siete qui? 13, ok. Siamo nel posto giusto. Vai. Allora, la loro armatura magica è molto basso. Il problema è che noi abbiamo tutti gli attacchi di terra. Anche la pietrificazione mi sembra che è legata alla terra. E' nato malato? Un povero. Poi ci fa da scudo. Adormentiamone uno. Ah, il blob. L'ho fatto a modo... De scudo. Oddio. Non so perché ho voluto curare una cosa che si decompone. Glorie è la mia. E' il fuoco maledetta. Oh, 337 ha fatto. La riposi prima di farla esplodere. Tipo, vera lei. Oddio, onde va? Non danno neanche le exp. Ok. Curatevi tutti. Ah, quello l'ho dato all'ex. E' rotto il chiave questo olio, eh. Potresti non passare da lì a... No! Ho cliccato sul cadavere. 333. 333. Oh, non c'è arriva. La skill ti mette le ali. No, è stato ammaliato. Oh, non c'è chi? Oh, non c'è. No. Non c'è. No, è stato ammaliato. non ti siete oh due sono comodi questi che si suscitano così allora però allora il veleno ne sono resistenti vero a 50 meglio il fuoco penso a tutte le stelle tranquillo combattere contro della roba poi davanti te sbuca sto mega corso che stecca e e bravo curati diretto sull'arciere quel bastasu il cielo se ne va usci prenda tutti e tre che botte no 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 non no 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 è il mosto con 8 sovraccarico passiva è qui sopra tanto mi sbalena i occhi ops mi è sfuggito signor magister scusi non l'avevo riconosciuta con tutto quel fuoco furco è una madonna arrivo ah lo potevo buttare in terra no non ci arriva vabbè c'è le scale tutto sto casino c'era le scale ho cliccato laterale ho cliccato laterale ho cliccato laterale è morta anche quella ma certo che l'aiutiamo signor magister è morta anche easy peasy guarda giusto nel frattempo si è scaricato il golem ok 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 Ah, c'è qualcuno di voi che non ha nessuna difesa, sono desolato. Diamo l'anima al nano che lui si fa tutte le robe buone. Che botta. E lo manca. No, vado a usare questa. Questo giro l'ha presa. Madonna, santa. Per non dire un'altra roba. Oh, vediamo ora... ...e dare questo al nano. Ok. Tirano ancora desce. Ok. Ah, cavolo, l'armatura magica. La nuova terra è un problema. Perché ti sei curata? Ho ricevuto una botta di cure. Annaggia. Ok. Ti do anche l'armatura di ghiaccio. Ok. 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 a non stare con noi. Ok. Ma- ISCATO- Ammaliato! Oh, povera Sibyl. 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 Oh, povera. Ok, molto carina. Oh, povera. Piano. Oh, povera. 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 Oh, povera.